Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove ci sono rallentamenti per lavori tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Eraest in direzione Livorno. Il traffico invece scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, tratto chiuso per lavori fino al 28 agosto tra Rufina e l'incrocio con la statale 69 di Valdarno a Pontassieve in direzione Firenze. Sempre per quanto riguarda le statali, la 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!